4 su 4, non sono le vittorie ma le sconfitte casalinghe del noto battuto anche dal Ribera al termine di una gara che definire noiosa è un eufemismo. Non un tiro in porta per 90 minuti né da una parte né dall'altra. L'arrivo di Mr. Betta sulla panchina Granata, che in settimana ha rimpiazzato l'esonerato Galfanno, non ha prodotto i risultati sperati. Squadra impacciata, intorpidita, immambolata, incapace di procurare fastidia alla difesa di un Ribera che assaggiamente ha optato per una gara d'attesa. Al Palatucci curiosità, oltre che per il ritorno di Giancarlo Betta in panchina, anche per l'esordio tra i pali dell'ex portiere del Siracusa Massimo Fornoni, che come il collega avversario Lingua Glossa è stato spettatore non pagante del match. Primo tempo da sbadigli e pubblico, compresa la decina di tifosi ospiti, silenzioso in tribuna. Al 54esimo i siracusani provano a venire in avanti con Imeri, che scarica su Prestigiacomo, il cui tiro in corsa termina sull'esterno della rete. Dieci minuti dopo Fornoni rintuzza la conclusione di Erbini, che al 64esimo lascia il posto a Ortolini. Al 94esimo il Ribera va in gol con Pollina, che beffa il portiere Fornoni e regala tre punti d'oro alla sua squadra. Noto sempre più in crisi, con appena quattro punti racimolati sulle nove gare di campionato fin cui disputate, i Granata restano mestamente in fondo alla classifica. Per il Ribera invece si tratta di una vittoria importante, in chiave salvezza. Guardi, questa è una squadra che fa gol al 94esimo perché ci crede ancora la vittoria. Noi abbiamo affrontato oggi una squadra, come è noto, una squadra molto organizzata, una squadra di giocatori importanti. Questa è la vittoria del gruppo, come vittoria di prima, con Talbano e Respolvo e lo stesso ragazzino Pollina. Questa è la vittoria del gruppo, non è di singoli. Questa è la vittoria del gruppo, non è di singoli.